La consacrazione all'Immacolata, dono di Gesù alle anime semplici, di padre Stefano Maria Miotto. La consacrazione all'Immacolata è un segreto che Maria stessa tante volte svela alle anime semplici, senza che queste abbiano mai letto qualche cosa su questo argomento. Un esempio del genere è quello di Suor Consolata Betrone, Clarissa Cappuccina, Piemontese, ora venerabile. Ancora prima di aver letto o udito parlare della schiavitù d'amore alla Madonna, Suor Consolata vi si era già praticamente legata. Questo avvenne nella Santa Comunione che seguì il 9 maggio 1929, data della sua conversione. In quella Comunione, ella fu favorita di una visione durante la quale la Madonna le chiese di offrire tutto a lei. Suor Consolata consentì e si offrì completamente a Maria per il cuore di Gesù, fino a giungere alle vette dell'amore, del dolore e delle anime. Ecco quello che lei stessa scrive riguardo a questa offerta. Poiché all'inizio della mia conversione la Santissima Vergine aveva chiesto e ottenuto una vera offerta di schiavitù, pensai di poterla rinnovare e lo feci la mattina del 16 giugno 1943 durante la Santa Messa, consacrandomi schiava d'amore a Maria. Ho dato tutto ma il cielo mi ha vinto in generosità e mi ha dato il suo grande tesoro, la Madonna. Sento che ella ora è mia, la posseggo nel mio cuore, perciò una confidenza illimitata ha preso possesso di me. Con la Vergine Santa quale virtù non posso praticare, quale vetta non raggiungere? Oh mamma mia, io confido in te. Tu sai la mia sete dei anime, estrai dalla tua povera schiava d'amore tutto il possibile, ma dammi di salvarne tante, corpo, cuore, anima, tutto è a tua disposizione. Immolami a piacimento, io credo in te, credo che sarai la mia generosità e fortezza, perciò tutta mi abbandona te, fammi frumento degno di essere macinato nel dolore e reso ostia di olocausto. Amen. La Madonna non si lascia mai vincere in generosità da noi e all'anima che a lei si consacra di cuore si dona. È Gesù stesso che offre a noi sua madre, ce l'ha donata dall'alto della croce e continua a donarcela, secondo le parole di Giovanni Paolo II, ad ogni celebrazione della Santa Messa. Scriveva il padre Ragazzini, studioso di mariologia, il dono più bello che Gesù possa fare ad un'anima, alla quale vuole bene, è darle la sua mamma. Dopo essersi consacrata alla Madonna, Suor Consolata sentì che ella era proprio sua, che la possedeva e inoltre, nel suo ardente desiderio di amare Gesù, voleva essere la Madonna stessa, trasformarsi in lei per amare Gesù con il cuore di lei e trasformarsi in Gesù per amare la Madonna con il cuore di lui. La Clarissa Piemontese scrisse di voler amare la Madonna come nessuno l'amata o amerà mai dopo Gesù e San Giuseppe. Dalla consacrazione alla Madonna e da ricevere in dono le stesse nella nostra anima, scaturisce una fiducia illimitata, come risulta evidente dal brano di Suor Consolata sopra citato. È questa grande fiducia, la caratteristica più bella delle anime mariane, le quali non si scoraggiano mai e superano difficoltà apparentemente insormontabili. Altro frutto squisito di questa consacrazione è l'amore alle anime da salvare, per le quali ogni sacrificio è affrontato volentieri, anzi è desiderato, pur di avere la gioia di vedere tanti fratelli che ritornano a Dio. Suor Consolata pregava alla Madonna di salvarne tanti e per questo di diventare frumento degno di essere macinato nel dolore e reso ostia di olocausto. In Maria Suor Consolata vedeva soprattutto l'amore e la purezza e tra tutti i titoli mariani prediligeva quello di Immacolata. Di lei scriveva quest'anno il cuore trabocca per l'Immacolata. Quando sento l'anima fredda, arida, basta una parola ridarmi vita, l'Immacolata. Questa visione di purezza quasi infinita mi rapisce, mi nebria. Oh, se la visione dell'Immacolata è già così potente alla semplice immaginazione, che non sarà in Paradiso? Un altro esempio di anima semplice che si aprì spontaneamente al dono della consacrazione mariana è quello di Santa Margherita Maria Alacoc, la quale, come si apprende dalla sua autobiografia, si consacrò alla Madonna già nella sua giovinezza. Quando era poco più che bambina si ammalò gravemente e quindi fece voto alla Madonna che, se fosse guarita, sarebbe diventata una delle sue figlie. Il voto era stato appena formulato che subito fu guarita e la Madonna, dice testualmente la Santa, diventò la padrona del mio cuore e considerandomi come sua, mi guidava come se fossi a lei consacrata. In seguito si consacrò esplicitamente alla Madonna. Mi consacrai a lei per essere sempre sua schiava, supplicandola di non ricusare questo mio titolo. Le dicevo queste cose senza troppi riguardi, come una bambina che parla alla mamma sentendo per lei un affetto profondo e filiale. Auguriamoci che la Madonna prenda possesso pieno e definitivo anche del nostro cuore fino a diventarne la padrona e che voglia dirigere i nostri passi alle vette della santità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.